Il rinforzo in difesa c'è, Guido Davi è un nuovo giocatore del Nardò, è un classe 90, vanta oltre 250 presenze tra i professionisti e con la Juve Stadia, ha centrato anche una promozione in Serie B, nella passata stagione invece si è diviso tra Pistoiese e Grosseto. Davi, ma non solo, garantisce il patron dei nerettini Alessio Antico. Ancora ci manca qualcosina per completare la rosa, ma stiamo parlando di un paio di elementi, tre al massimo, stiamo cercando questi elementi per andare a dare una mano, una rosa per noi già forte, però a livello numerico giustamente ci servono ancora questi elementi e non vogliamo sbagliarli logicamente. Le conferme di Addae, Danna e del giovane Ciraci e poi tantissimi volti nuovi nel Nardò, versione 24-25, alcuni dei quali con tanta voglia di riscattare un passato recente tra alti e bassi. Questa volta i nerettini non hanno i riflettori puntati e potrebbe essere un aspetto vantaggioso. L'anno scorso noi eravamo la squadra con i favori del pronostico, perché eravamo la squadra che doveva vincere il campionato. Quest'anno sono altre le squadre che dovevano vincere il campionato. Logicamente ribadisco che noi crediamo molto nel nostro lavoro e sicuramente sappiamo che questa è una squadra che può darci tante soddisfazioni. Però, come avevi detto tu, i riflettori sono puntati su altre società e magari questa qua può essere anche un vantaggio da un certo punto di vista. Noi siamo comunque sempre in Nardò, la società ambiziosa, una squadra ambiziosa, una tifoseria ambiziosa, perciò cercheremo di dare del filo da torcere a tutti. In Nardò, domenica 8 settembre, inizierà il nuovo campionato proprio dove ha concluso quello vecchio al Torsi contro il Martina, battuto nella finale play-off del Gironerca. Prima però c'è la Coppa Italia di Serie D il primo settembre al Giovanni Paolo II contro la Fidelis per la sfida secca di primo turno. L'Andrea è una di quelle favorite per la vittoria finale, però questo campionato ci ha insegnato che al di là delle aspettative iniziali c'è poi sempre il campo, quello che dà il verdetto finale. Sappiamo che squadra e materasso non ce ne sono in questo campionato, perciò a partire dall'Andrea, a finire al... faccio il nome Costa D'Amalfi che è una neopromossa, sappiamo che sono tutte organizzatissime, tutte squadre forti, perciò chi sarà più continuo alla fine la spunterà, al di là dei nomi, del budget e del resto. Grazie.